Quarta corsa dall'Ippotovo delle Capannelle, si parla ancora di 4 anni, non vincitori di 15.000 euro in carriera, 12 al Via. All'1 Belena Jack e Davide Di Stefano, al 2 Breda Luis e Ferdinando Minopoli, al 3 Birbone Par, Gaetano Di Nardo, al 4 Bye Bye Spring, Giussi Savarese, al 5 Benur, Cigi, Warner Martellini, al 6 Bomberman, Mario Manzoni, al 7 Bradley Fox, Enrico Bellei, seconda fila 8 Barra Cuda Jet, Dario Battestini, 9 Bellium Debuti, Emanuele Pettinari, 10 Bocco Pan, Roberto Vecchione, 11 Bonadeasco, Nicola Merola, 12 Balla USM, Alessandro Gocciadoro. Quest'ultima la favorita della corsa, forte di tre vittorie consecutive. Con i cavalli che ora sono a 200 metri dallo stacco, si ritrae Birbone Par, allo stacco è veloce con il numero 6 Bomberman che scende la corda, scuote la testa Mario Manzoni perché va a chiedere stata Bradley Fox ma per il momento non la ottiene, quindi rimane in testa Bomberman, l'errore di Bradley Fox che quindi si elimina e si va così al completamento della piegata con Bomberman che completa la curva da leader, così i primi 400 metri che vanno via in un comodo 30 e 6. In schiena Belena Jack, all'esterno il 2 Breda Lewis, al lato di tutti Bocco Pan che prova ad aggirare la seconda fila e va così a fianco del battistrada, da 600 metri in 46 e 9. Bocco Pan che quindi ora affianca a Bomberman quando si va ad affrontare la piegata di destra, poi la paniglia formata da Barracuda Gette e ancora Breda Lewis con Bocco Pan che va deciso su Bomberman e cerca di sopravanzarlo, ma quest'ultimo finita la curva rientra ancora Bocco Pan che insiste, Belena Jack che è spettatrice interessata, il chilometro che va via in 1'16 e 9 con Bomberman che cerca di replicare ancora Bocco Pan, intanto ha spostato la corda a Belena Jack, guadagna una posizione così Barracuda Gette e si va a metà della piegata conclusiva con Bomberman ancora in replica su Bocco Pan che però insiste, non si dà per vinto e affronta la addirittura per sferrare il suo ultimo attacco a Bomberman che ha ancora mezza di margine, Bocco Pan insiste, attacca Bocco Pan su Bomberman, i due in lotta, più indietro si fa vedere Belena Jack che è più fresca, Belena che cerca di filtrare, si difende alla corda a Bomberman su Bocco Pan, nel finale Bomberman che viene a vincere nei confronti di Bocco Pan e Belena Jack. Duello lunghissimo, durato almeno un chilometro tra Bocco Pan e Bomberman con quest'ultimo che però ha saputo replicare metro dopo metro all'avversario, nel finale conserva ancora un minimo vantaggio con Mario Manzone alla guida e al training del figlio di Adrian Cip, i colori della scuderia di famiglia La Man Ardea, Bocco Pan che stracorre ma si deve adeguare al secondo posto, a precedere Belena Jack. E allora 6 al primo, il 10 al secondo, l'1 al terzo.